Salve ragazzi, molti autori mi hanno fatto spesso notare che trovare l'editor giusto, quello capace, quello che sa veramente lavorare bene non è poi così semplice e che spesso gli autori hanno questo problema, cioè quello di iniziare a lavorare con un professionista che magari non è poi così professionale come credevano in effetti bisogna riconoscerlo, per un autore alle prime armi che magari non ha molta esperienza nel campo non è semplicissimo riuscire a riconoscere un professionista che lavora bene, serio, che vale la pena di pagare insomma e quindi oggi parliamo di 10 segnali che vi possono far intuire che dovreste cambiare editor Indizio numero 1, un editor da cambiare fa solo complimenti intendiamoci, i complimenti sono carini, ci vogliono, servono anche quelli perché comunque una coccola ogni tanto non fa male però se state pagando un professionista è un po' strano ricevere soltanto delle lodi, dei complimenti appunto perché in fondo voi quel professionista lo state pagando per migliorare, per capire cosa non va in quello che avete scritto e purtroppo per gli autori è un po' difficile riuscire ad andare oltre l'egocentrismo che ogni autore ha insomma è capire che è molto più utile ricevere una critica se tu mi paghi io devo riconoscere, cioè devo aiutarti a riconoscere i difetti del tuo dattito scritto, della tua storia e quindi è inevitabile che ti farò delle critiche devono essere sempre delle critiche fatte nel modo giusto, con l'empatia, con affetto però ci devono essere sarebbe troppo facile infatti limitarmi a lusingare un autore lui sarebbe felicissimo, io verrei pagata, arrivederci ma facendo questo non starei lavorando bene questo non significa ovviamente che i complimenti non ci saranno e che nessun autore se li merita mai insomma però indizio numero 2 un editor da cambiare fa grandi promesse in che senso? non so se vi è capitato di vedere magari sponsorizzato su facebook qualche post di ai tanti professionisti che promettono la luna cioè autopubblica il tuo libro e venderai milioni di copie scrivi il tuo romanzo in un mese scrivi anche tu il tuo best seller internazionale cose di questo genere quando contattate un freelance e cominciate a proporgli il vostro dattilo scritto ecco di solito la persona più seria sarà abbastanza pessimista anche qui questo non vale in assoluto capita insomma di riconoscere un autore molto in gamba e che ha molte possibilità però specialmente se siete alle prime armi è probabile che voi dobbiate lavorarci prima quindi difficilmente un editor bravo partirà con il dirvi cavolo questo romanzo subito a Mondadori spacchi tutto e cose così ma al contrario sarà molto cauto nel alimentare le vostre aspettative tenterà più che altro di abbassarle un pochino perché in genere si parte con aspettative molto alte e siccome il mondo dell'editoria è un mondo duro è difficile che diventerete miliardari con il vostro primo romanzo ecco quindi se qualcuno vi fa capire che potrebbe andare così probabilmente non sta lavorando bene e capite perché lo fanno giusto? cioè è molto facile appunto promettervi grandezza dicendo sì sì tu fammi il bonifico e arriverai su Marte tanto poi alla fine il bonifico me l'avete fatto io me ne sono scappata e insomma i soldi me li sono presi no non si lavora così un editor non dovrebbe farlo indizio numero 3 un editor da cambiare parla con superficialità avete presente quelle persone che parlano sempre male dell'editoria in assoluto dicendo che sono tutti brutti e cattivi oppure parlano male di tutti gli autori oppure parlano male degli editori piccoli o degli editori più grossi insomma hanno quella categoria che odiano e ne parlano male sempre ora è ovvio che può capitare in un discorso può capitare tra amici di fare una battuta non voglio rendere questo discorso assoluto e totalizzante appunto però in generale è difficile che un professionista serio spari idiozie su una categoria generale in assoluto quindi è difficile che vi dica eh gli autopubblicati sono tutti deficienti oppure il grosso editore deve morire ma conoscendo l'ambiente conoscendo quello di cui sta parlando magari sarà un pochino più cauto esprimerà sicuramente le sue opinioni ma sempre con un certo con una certa attenzione a non esagerare e purtroppo di cosiddetti editor che dicono cavolate sull'editoria ne vedo tantissimi il problema qui qual è? non è tanto una questione di principio no? per cui non si deve fare questa cosa non è bello ma che se il vostro editor non conosce realmente l'editoria magari conosce solo un pezzettino non lo so è fissato con l'idea che solo autopubblicando potete avere successo è difficile che poi vi sappia consigliare veramente bene indizio numero 4 un editor da cambiare è troppo veloce questa è difficile da digerire vero? beh cerchiamo di capire perché certo tutti gli autori vorrebbero che il loro editor finisca di lavorare in due minuti consegni subito la bozza corretta e che il tutto sia spedito direttamente a Mondadori il giorno stesso ma non funziona così il lavoro dell'editing è un lavoro di riflessione è un lavoro per cui serve pensarci sopra prendere delle decisioni trovare a volte delle soluzioni alternative alle prime che ci vengono in mente vi faccio un esempio a me capita ogni tanto che un autore mi chieda aiuto per trovare un titolo adeguato al suo romanzo trovare un titolo è una cosa difficilissima non so se avete mai provato a farlo specialmente in alcuni casi quando non è evidente che il titolo deve avere il romanzo si può passare un sacco di tempo a pensarci e a volte il titolo viene fuori per magia all'improvviso così mentre stai dormendo mentre fai la doccia ti arriva in testa e allora l'hai trovato ma deve arrivare al momento giusto dunque se un autore mi chiede di trovare un titolo a un romanzo su cui magari abbiamo lavorato insieme quindi che conosco molto bene e io rispondo dopo due minuti è molto probabile che le mie opzioni facciano un po' pena però la domanda è quella volete un lavoro fatto bene o volete un lavoro fatto in due minuti perché purtroppo le cose sono alternative è ovvio che questo vale ancora di più se parliamo di un editing di una correzione di bozze cioè quei lavori per cui bisogna passare del tempo sul testo a volte anche per rispondere a una domanda che riguarda il romanzo serve tempo magari devo documentarmi magari devo controllare qualcosa dipende però ecco più tempo ci metto o meglio detto così magari esagerato ora ci devo mettere sei anni senza dubbio però se ci metto un po' di tempo in più è proprio perché mi sto documentando sto cercando di approfondire sto cercando di non dire una cavolata cosa che l'autore secondo me dovrebbe apprezzare se mette di fronte un editor che vi risponde sempre in due minuti e sembra avere tutte le soluzioni pronte a portata di mano forse qualcosa non torna indizio numero 5 l'editor da cambiare a prezzi fuori mercato e questo sappiatelo lo intendo su entrambi i lati cioè sia che vi dica lavoro per un centesimo a cartella sia che dica lavoro per 90.000 euro a cartella questo discorso in realtà lo faccio spesso mi trovo spesso a farlo e spesso gli editor si arrabbiano quando lo faccio quindi chiedo scusa a chiunque si offenderà però di solito chi si fa pagare pochissimo e con pochissimo intendo dire non lo so per un editing boh meno di 2-3 euro a cartella che è il minimo è una persona che ha appena iniziato a lavorare quindi ha poca esperienza ed è molto insicura no? cioè pensa se io non metto un prezzo bassissimo nessuno si rivolgerà a me quindi c'è dietro questa scelta ha molta paura molta insicurezza magari l'editor in questione è bravissimo è il più bravo dell'universo ma se è così si renderà presto conto che non può campare con questi prezzi e quindi sicuramente li aumenterà e su questo ci tengo a dirlo è normale che all'inizio un editor si faccia pagare troppo poco ci siamo passati tutti l'ho fatto anch'io all'inizio però non è consigliabile è un errore che poi ti si ritorce contro dopo quando sei costretto ad aumentare i prezzi e gli autori si arrabbiano insomma non fatelo se volete iniziare a lavorare cercate un prezzo umano fin dall'inizio però insomma magari viene più dall'inesperienza che dal fatto di non saper lavorare ecco quindi ripeto può essere bravissima questa persona ma forse deve ancora crescere un pochino magari potete trovarne una con cui vi trovate benissimo che va benissimo che non si fa pagare quasi nulla però siete un po' cattivelli ad accettare di pagare troppo poco perché l'unico motivo per cui è possibile che si stia facendo pagare così poco è che ancora non ha capito che dovrà pagare le tasse l'imps il commercialista le robe le bollette l'affitto insomma la spesa se invece l'editor vi propone 10 euro a cartella non lo so è in genere lo fa chi ha un curriculum notevole e quindi si fa forte di questi titoli di questa grande lunga esperienza per alzare il prezzo e lì scelta vostra insomma solo che pagare così tanto per un editing con un freelance è un grande rischio potreste perdere sti soldi e magari potreste trovare un editor bravo a prezzi più bassi prezzi normali onesti e quindi non si capisce per quale motivo spesso gli autori si facciano così influenzare da questo o meglio chiariamoci lo capisco è ovvio che se trovate una persona che lavora nel campo da 20 anni da 30 anni non lo so o che magari fa l'editor presso un grosso editore siete stimolati da questo e pensate vabbè questo ne sa insomma ha molta esperienza e se per questo va bene ripeto io comunque sarei un po incerta perché c'è un limite a quello che vi consiglierei di spendere di investire da privati sul testo però vabbè cavoli vostri il problema è proprio nel saper distinguere chi in effetti questa esperienza ce l'ha veramente e chi un po la millanta perché ci vuole poco a millantarla vi assicuro basta non lo so aver messo piede una volta nella vita nella sede della Mondadori per scriverlo su tutti i curriculum del mondo magari ci sei andato per lavare le scale non importa hai lavorato in Mondadori e lo vedo spesso questo una cosa che per esempio fanno in tantissimi purtroppo è illudere l'autore che se pagherai quell'editor lì verrai diciamo così raccomandato presso degli editori e più sono fighi meglio è ragazzi questo non è vero tutti gli editor di questo mondo hanno dei contatti nel mondo editoriale quindi se il vostro manoscritto se la vostra storia è adatta a quell'agenzia a quell'editore eccetera eccetera è ovvio che l'editor cercherà di avvicinarvi a quella realtà perché fa parte del suo lavoro gli fa piacere non è un obbligo ma comunque lo facciamo tutti se io mi metto a pubblicizzare questa attività che è un po' un lavoro da scout che io faccio molto volentieri come prima cosa come prima caratteristica di come lavoro sto un po' prendendo in giro gli autori perché è molto raro che il testo sia già pronto per esempio nonostante mi capiti ogni tanto mi capita pure di non far nemmeno pagare l'autore di dirgli guarda non c'è bisogno che ci lavoriamo vai direttamente verso l'editore ma questo è molto raro e sebbene capiti abbastanza poi di indirizzare l'autore verso l'editore non è scontato non posso assicurarlo specialmente se ancora non ho neanche letto cos'è scritto tantissimi autori che contattano un editor sono alla prima esperienza alle primissime armi e quindi è probabile che prima di avere questo ponte verso l'editore dovranno lavorare tanto sul manoscritto a volte non è quello quello giusto a volte è quello da scartare da buttare via a volte da riscrivere insomma i casi sono talmente tanti che mi sentirei una truffatrice a presentare il mio lavoro dicendo guarda fammi il bonifico e qualcuno ti pubblicherà non è questo il mio lavoro non funziona così indizio numero 6 un editor da cambiare non prova a capirti l'empatia come ho già detto più volte è un elemento fondamentale del lavoro dell'editor quindi se avete l'impressione che l'editor non vi ascolti non si interessi alla vostra esperienza come autori non vi capisca non vi accolga in un certo senso probabilmente non è l'editor che fa per voi questo può anche capitare in base a un'antipatia personale insomma può succedere perché siamo tutti umani però in genere l'editor dovrebbe farvi sentire proprio ascoltati quindi quello troppo cattivo che vi critica in maniera troppo dura quasi maleducata e che è sprezzante nei vostri confronti non è un bravo professionista indizio numero 7 un editor da cambiare collabora con editori a pagamento e qui piccola premessa può capitare a tutti di fare un errore nella vita così come a voi come autori può capitare una volta nella vita di pubblicare a pagamento e faremo finta di non averlo mai visto beh anche un editor potrebbe capitare di cadere in questi tranelli per esempio capita che un editore contatti un editor freelance offrendogli un lavoro cioè dicendogli dai fai l'editing sul mio catalogo e poi solo dopo l'editor scopre che era un editor a pagamento però solo dopo aver controllato non essere stato pagato si spera però può capitare quindi non voglio condannare in assoluto chiunque abbia fatto questo errore nella vita ma se vedete che è una collaborazione continuativa e che quindi questa persona di fatto appoggia l'editoria a pagamento io vi consiglio di fuggire urlando indizio numero 8 un editor da cambiare non conosce l'editoria questo l'ho già detto prima però è importante quindi parliamone ancora un po' cosa intendo? intendo dire che un bravo editor conosce gli editori quindi ha un'idea di cosa viene pubblicato conosce i cataloghi sa cosa chiede il mercato anche se deve lavorare con un autore molto fuori mercato che magari non ha nemmeno interesse a pubblicare quel grosso editore e a venire rappresentato da un'agenzia però se io non ho idea di cos'è questo mercato come ti posso aiutare come faccio a indirizzarti se non capisco nulla di editoria per questo vi raccomando di verificare che ci siano state delle esperienze che comunque questa persona non si sia svegliato una mattina e abbia deciso che da oggi faccio l'editor ma che comunque abbia fatto qualcosa all'interno del mondo dell'editoria o che almeno conosca quel mondo in qualche modo come volete voi però indizio numero 9 un editor da cambiare non crea regole nel rapporto professionale questo vale in realtà per qualsiasi tipo di freelance perché da un lato c'è il lato umano l'empatia la comprensione e l'ascolto dall'altro però c'è la vita del professionista che non ha solo voi come clienti come interlocutori e quindi deve avere una routine deve avere delle regole da farvi rispettare per esempio una persona che vi risponde al telefono oppure di domenica alle 2 del mattino ha qualcosa che non torna una persona che vi risponde sempre subito che come dire non vi fa notare magari che state esagerando nel cercarla che non mette dei paletti nella vostra relazione professionale rischia per tanti motivi diversi potremmo anche parlare delle implicazioni psicologiche di questo rapporto magari lo farò un'altra volta di danneggiare un po' la qualità del lavoro non dico che non debba mai rispondere che mi debba lasciare ad aspettare per sempre ma ci sono dei momenti giusti dei toni giusti da usare cioè si diventa amici ci può essere un bellissimo rapporto però stanno molto calmi insomma e questo secondo me è difficile da comprendere se non siete mai se non avete mai lavorato come freelance ma vi assicuro che ha tanta importanza e infine indizio numero 10 un editor da cambiare non è in regola con la legge a me fa veramente sorridere per non dire piangere quando un autore mi dice ma no non ti preoccupare della fattura tanto noi siamo amici io capisco ve lo assicuro quanto è difficile pagare le tasse e vi assicuro che capisco quel senso di subita ingiustizia che prova un freelance o anche che ne so un commerciante specialmente un commerciante per come la situazione delle partite IVA ok lo so però io mi devo pagare i contributi io devo pagare le tasse vorrei evitare di ricevere delle multe vorrei evitare di farmi arrestare e insomma dichiarare il mio reddito mi serve per tantissimi motivi quindi ho capito per esempio a volte qualcuno mi dice ma a me non serve la fattura che me ne faccio te la puoi tenere e mi rattrista vedere come gli autori veramente di solito non siano minimamente interessati a questo aspetto delle leggi italiane quindi no la fattura la dovete avere la dovete pretendere dovete controllare che la persona abbia una partita IVA regolare che lavori che paghi le tasse perché questo fa parte del lavoro quindi se una persona se ne frega di questo aspetto evidentemente non è un professionista serio anche qui aggiungo se una persona ha appena iniziato probabilmente ancora non avrà aperto una partita IVA però comunque vi potrà rilasciare una ricevuta controllate che questo professionista che se una persona seria si è informato prima insomma su come funzionano le cose non è così difficile possa cioè abbia capito si sia interessato a questo aspetto della questione e che quindi non vi stiate affidando a un ciarlatano che non sa nemmeno cos'è una ricevuta nuovamente sottolineo una persona molto giovane che ha appena cominciato può essere che non vi che non abbia pensato a niente ma se è così siate voi a farglielo notare e mettetela in guardia perché comunque è pericoloso per un professionista non cioè essere in nero totale anche perché di solito il pagamento viene fatto tramite bonifico comunque in maniera tracciabile ed è un pericolo non si fa bene spero di avervi dato qualche spunto di riflessione come sempre vi ringrazio per avermi visto e ci si vede al prossimo video ciao